Buongiorno a tutti e grazie dell'invito e mi scuso se purtroppo non potrò ottenermi per tutta la tavola rotonda. Il martedì è giornata che è stata dedicata agli arbitrati bancari, alle 11 cominciano gli arbitrati bancari e non posso mancare. E noi risparmiatori truffati chi li sente? Eh infatti, diciamo sono un problema molto serio, non minore di quello di cui trattiamo oggi, ci mancherebbe altro. Però partecipo molto volentieri, partecipo molto volentieri perché prima di tutto io voglio dire, io credo al valore dei codici etici e non voglio essere preso in giro e sembrare un ingenuo, perché tutti sappiamo che di codici etici diciamo siamo pieni e potremmo dire anche la stricata, la strada dell'inferno dei codici etici, perché un codice etico non si fa mancare a nessuno, anche nei posti dove l'etica è una parola semplicemente sbandierata. Invece io credo moltissimo nei codici etici, perché credo che la lotta alla corruzione, ma in generale al malaffare, a qualunque altro meccanismo, non possa fare a meno degli uomini. Possiamo mettere in campo tutte le procedure di questo mondo, possiamo mettere in campo gli strumenti migliori, ma esistono sempre le tecniche di aggiramento. Non esistono leggi perfette che consentano di non fare, che non si verifichino fatti di corruzione. Chi dice il contrario ovviamente ci prende in giro o fa vedere la bacchetta magica. Possiamo individuare tutti gli agenti provocatori di questo mondo, ma la corruzione non la vinciamo semplicemente con la repressione. Io sono convinto che la corruzione possiamo vincerla con la prevenzione e la prevenzione richiede una compartecipazione attiva di tutti i soggetti che fanno parte del mondo che si occupa di affari. Certo la pubblica amministrazione in primo luogo, perché senza la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione è il motore dell'attività, in questo caso amministrativa, ma la pubblica amministrazione da sola non può farcela senza soprattutto il grande impegno del mondo imprenditoriale. Io qui devo, voglio dirlo pubblicamente, ma anche in un luogo per certi versi simbolo, io sono convintissimo che una delle svolte principali in materia di lotta alla mafia c'è stato quando Confindustria fece delle scelte molto chiare, soprattutto nell'allontanare dal punto di vista anche ideologico una serie di imprenditori che avevano un comportamento ambiguo nei confronti della mafia, non solo i imprenditori mafiosi, e lì tutto sommato chi avrebbe potuto dire altro, ma per esempio cominciando a stigmatizzare il fatto che gli imprenditori pagassero le tangenti. Attenzione, chi paga le tangenti tendenzialmente è una vittima, ma è evidente che quella vittima è una vittima in qualche caso e in qualche situazione soggiacente, direbbero i miei colleghi magistrati, e quindi quella vittima soggiacente spesso finisce per avere una funzione di aiuto per paradosso della stessa criminalità organizzata. Quello fu un passaggio storico dal punto di vista culturale, un passaggio che eliminava una serie di ambiguità del passato. Ora qualcuno dice sì però non ci furono poi tante espulsioni, ma le battaglie ideologiche vanno a prescindere dai risultati concreti. Quello fu uno snodo indispensabile per ottenere i risultati che si sono ottenuti in tema di lotta alla criminalità organizzata. Non penso che la mafia sia stata sconfitta, siamo ancora lontani, ma abbiamo ottenuto grandi risultati perché si è riuscita a mettere in capo una sinergia. Forze dell'ordine, sicuramente la magistratura e le forze di polizia in generale, un'attività di prevenzione che è passata anche attraverso un ruolo del mondo associativo, di quella antimafia sociale, che oggi qualche problema la sta evidenziando, ma un ruolo rilevante del mondo imprenditoriale. E in questo senso torniamo al tema del codice etico. Il codice etico serve a individuare una figura, in qualche caso un modello, io direi, il modello ideale di chi dovrebbe operare in quel settore. Certo, proprio perché il modello ideale non tutti riusciranno a raggiungere quel modello ideale, ma individua una serie di standard minimi che dovrebbero garantire il rendere più difficile, il più difficile possibile, il verificarsi di fatti illiciti. Ovviamente il codice etico ha bisogno certamente di dover essere applicato, ma di dover essere anche letto. Perché molto spesso noi accettiamo i codici etici come l'ennesimo impegno burocratico. Mi è capitato di recente di aver avuto un incarico gratuito presso un'università. La prima cosa è che mi hanno dato il codice etico, che fra l'altro è il codice nazionale. Io l'ho firmato senza leggere, lo conoscevo a memoria, però mi chiedo ma quante persone davvero l'hanno letto? Io credo quasi nessuno, malgrado si trattasse di un'università. E invece all'interno del codice etico ci sono una serie di dati che si è messi in campo e non necessariamente attraverso la logica dell'imposizione. Se messi in campo aiutano davvero. E devo dire, il codice etico che voi presentate stamattina è un codice etico con tanti punti di interesse. Per esempio, ho trovato molto utile il riferimento a un istituto significativo per quanto vi riguarda, il tema del pantuflage, che voi mettete in evidenza l'articolo del testo unico degli impiegati civili che evita quel meccanismo delle porte girevoli fra pubblico e privato, che spesso rappresenta una sorta di corruzione posticipata, diciamo noi, e che rappresenta il modo attraverso il quale oggi io entro in un certo settore perché ti prometto domani di avere in cambio un incarico presso il luogo in cui lavoro. Ecco, quella è una figura che bisogna capire, bisogna evitare senza, diciamo, eccedere in operazioni di rigore eccessivo. Ma quelli sono gli snodi dietro i quali spesso si nasconde il meccanismo della corruzione occulta. Perché la corruzione attraverso la tangente è una corruzione che ormai, parliamoci chiaro, è una corruzione ai sfigati. La vera corruzione si fa attraverso operazioni molto più raffinate. Soprattutto in materia di dispositivi medici, di recente un'indagine alla Procura di Napoli ha fatto verificare in che modo, attraverso la costituzione di una serie di società in cui faceva parte la moglie del primario dell'ospedale arrestato, si facevano certe operazioni e si pagavano di fatto le tangenti. Allora, chiudo perché diciamo il mio vuole essere semplicemente un auspicio positivo. La strada è giusta. Bisogna continuare a lavorare. Insieme bisogna lavorare per il fatto che questi principi etici non vengano oggi affermati come enunciazioni di principio, ma vengano sempre più oggetto di valutazione, non necessariamente attraverso la sanzione, mediante la possibilità di discutere e far capire, perché la parte del suo intervento che ha apprezzato ancora di più di tutto il resto è quando dice che la corruzione finisce per creare danni soprattutto alle imprese, oneste, perché è evidente che è un meccanismo di concorrenza sleale, è un meccanismo che consente di utilizzare dispositivi, in questo caso dispositivi illeciti, per ottenere risultati che invece chi lavora onestamente fa fatica ad ottenere. E su questo io credo dobbiamo lavorare insieme, anche provando a mettere in campo eventuali, trovando il modo migliore. Io per esempio ho letto stamattina la sua intervista, lei diceva che c'è qualche problema per quanto riguarda le linee guida sulle commissioni di cara. A parte il fatto che le commissioni di cara non abbiamo ancora avuto il piacere di vederle in opera e chissà, visto quello che si dice sul codice dei contratti, se le vedremo mai, perché è probabile che così come accade col filo di Arianna ricominceremo con un altro codice dei contratti che sarà presentato con la panacea di tutti i mali e poi fra due o tre anni ricominciamo sempre da capo con un meccanismo che è il contrario di quello che è necessario. Abbiamo bisogno di stabilità normativa. E poi voglio dire un'ultima cosa sulla chiarezza. Sono d'accordo, quello che lei dice è un problema, ma la ragione delle linee guida è proprio quello di poter sperimentare e eventualmente modificare. Noi ci siamo posti in una logica, quella diciamo che è quella di evitare il conflitto di interessi, ma siamo ben consapevoli che a volte evitare il conflitto di interessi può anche portare a una riduzione della qualità della professionalità. E allora il modo è come far emergere il conflitto di interessi, cioè non perdendo la professionalità ma nello stesso tempo garantendo la necessaria imparzialità. Siamo ben disponibili a ragionare su questo e su altri temi, perché l'obiettivo comune è che si facciano le cose, ma che si facciano nel modo migliore possibile. E qui un'ultimissima battuta, la semplificazione. Io credo che la semplificazione sia una parola in questo Paese abusata quasi quanto un'altra, legalità. Se potessi io le abolirei tutte e due, perché sono degli slogan inutili. Legalità è una parola che per esempio a me non piace neanche un po' come semplificazione. Scusate, ma che significa semplificazione? Significa rendere le norme comprensibili. C'è qualcuno da qualunque parte di qualunque persona del Paese che sarebbe contrario alla semplificazione. Forse qualcuno che ci lucra sarebbe contrario, ma stiamo parlando di qualcuno che non lo affermerebbe mai. Nel resto la legalità è uno dei temi, è una delle parole più utilizzate soprattutto da chi nel concreto non ne fa uso quotidiano. Allora che cosa vogliamo intendere per semplificazione? Io eviterei di pensare che la semplificazione sono i falò fatti all'interno di Palazzo Chigi. Abbiamo visto quella semplificazione dove è andata. Ere geologiche fatte. Sì, però ere geologiche fino a un certo punto. Dicevo, io eviterei questo tipo di semplificazione e vorrei anche ricordare che uno dei meccanismi di maggiore complicazione della norma sono stati i decreti semplificazione, perché intervenivano per semplificare e introducevano nuove norme. Io per esempio sarei dell'idea, è una mia idea, un mio pallino da tantissimo tempo, che ogni governo dovrebbe creare una commissione ad hoc di tecnici però, che stabilisce quali norme vanno mantenute e quali vanno eliminate, proponendolo al Parlamento ovviamente, ma soprattutto di dove si trovano le norme, perché il vero problema a volte non è quello di capire le norme, ma di sapere pure dove sono, soprattutto con questo meccanismo che la maggior parte delle norme di interesse economico, stanno sempre nelle leggi di stabilità o come cavolo si chiamano, perché ogni anno cambiamo anche norme. Ecco, semplificazione secondo me in primo luogo è comprensibilità, soprattutto capacità che il cittadino comune medio, che non deve essere un giurista o un professore universitario, sia in grado di trovarlo, non recandosi come faceva Renzo con i due famosi polli dalla zecca Carbugli, che è in grado di dirgli tre norme che possono essere applicate a seconda se tu vuoi essere un bravo o se vuoi essere un cattivo. Allora, semplificazione è comprensibilità, possibilità di reperire e soprattutto certezza delle norme. Il meccanismo più importante della semplificazione è la certezza. Se cambiamo continuamente nella logica di semplificare, complichiamo. Io credo che in Italia i ministeri che non sono mai mancati sono quelli della complicazione delle operazioni più semplici. Quelli ci sono sempre stati e hanno sempre lavorato nella logica della semplificazione per complicare. Sulla battaglia della semplificazione ci siamo tutti, soprattutto perché io sono convinto di un altro passaggio, che il più grande aiuto alla lotta alla corruzione viene dalla semplificazione, perché le procedure complicate rappresentano il modo migliore per provare a trovare il modo per aggirarle quelle procedure, soprattutto per ungere le ruote di chi, come facilitatore, Mr. Wolf, norme in questi giorni particolarmente evocato, è in grado di trovare la soluzione ai problemi. Allora ci siamo anche sulla semplificazione, purché siamo dell'idea, cioè purché la semplificazione non significa mani libere. Qualche volta ci abbiamo provato in questo Paese che ha le mani libere, ma i risultati non sono stati buoni. Voglio dirlo e chiudo davvero che se le mani libere avessero prodotto risultati, cinicamente potremmo dire va bene così, ma io vorrei ricordare che la legge più importante fatta per le mani libere, la legge obiettivo, non ha consentito di velocizzare nessun lavoro pubblico, ne ha consentito di fare l'8% del libro dei sogni che era stato proposto e su quell'8% ci sono stati pure un sacco di problemi. semplificazione significa conoscibilità delle norme, reperibilità e soprattutto procedure chiare una volta e per tutte note a tutti. Questo dovrebbe essere a mio modo di vedere l'obiettivo su cui tutti dobbiamo lavorare insieme. Grazie. Grazie. Allora evocava il falò di Calderoli, ma mi pare che anche uno dei nuovi vicefremi di Maio ha detto 400 leggi da togliere subito, poi vedremo se lo farà perché le sfide e i dossier che ci sono davanti sono moltissimi e a dispetto, perché lei sa che ci sono i cantoniani e gli anticantoniani, a dispetto dei suoi detrattori, come avete visto l'atteggiamento del capo dell'anticorruzione non è assolutamente talebano ma è di buon senso, perché è molto importante visto anche il ruolo che ricopre. Prima che lei vada via, siccome è arrivata già una domanda, le volevo fare questa domanda, come si riuscirà ad avere regole più semplici per favorire l'innovazione? Questa non è una risposta semplicissima ma bisogna provare. Prima di tutto io credo che tutti i luoghi nei quali non è possibile la procedura, la competizione, perché l'innovazione non necessariamente può essere fatta tenendo presente la competizione ordinaria. Mi spiego, a volte l'innovazione può essere anche un meccanismo meno economicamente vantaggioso e però rappresenta uno start-up necessario per cambiare, per andare avanti. Io sono convinto che in certi luoghi si possono utilizzare anche procedure meno garantite, purché queste procedure meno garantite siano supportate da una massima possibile trasparenza. Nel nuovo codice dei contratti che ormai è diventato quasi una bestemmia evocare, sono previsti gli appalti per l'innovazione, che è stata una delle più grandi innovazioni previsti nel codice degli appalti, ad oggi mai applicati, non si sa nemmeno cosa siano veramente, anzi per cortesia non me lo chiedete perché rischierai di fare brutta figura. E però c'erano, c'erano perché era un codice che provava a guardare, al di là dello scherzo, gli appalti dell'innovazione erano stati fortemente evoluti soprattutto dalla comunità europea e cioè nascono proprio dall'idea di chi lavorando con l'amministrazione vuole fare innovazione e questo è il vostro settore in particolare perché, viva Dio, se oggi si riescono a fare delle cose in medicina in questo modo è perché voi avete avuto la forza di innovare, il mondo ha avuto la forza di innovare e certamente l'innovazione non può essere considerata e valutata semplicemente con uno standard di bando che ricorda i tempi andati. Allora io sono convinto che sull'innovazione si possa investire anche abbassando la quantità e qualità delle regole purché questa innovazione sia supportata sempre da una massima trasparenza e da una massima partecipazione. A volte si dice noi abbiamo bisogno di dispositivi specifici, solo quel dispositivo medico, lo dicono soprattutto i chirurghi, non possiamo metterci a fare le gare perché abbiamo bisogno solo di quel dispositivo, nessun problema. Basta motivare e chiedersi se per esempio quello stesso dispositivo può esserci nelle stesse condizioni, al limite anche economicamente migliori, senza dover necessariamente chissà fare che tipo di gare. Ecco, io credo a volte basta un po' di buonsenso ma anche un po' di capacità di sapere applicare le regole per riuscire a fare innovazione senza nascondere dietro questa parola invece altri fini meno gradivoli. Scusandomi sempre con gli altri nostri osti, arriviamo perché adesso Cantone deve andare via per i suoi arbitrati, giustamente. Si può pensare a norme di settore, cioè settore medicale e non parlare di pubblica amministrazione a tutto campo? Ma le norme di settore ci sono in parte già attraverso meccanismi che devono, io non credo, essere leggi. Io sarei, o lo diciamo oggi perché presentiamo un codice etico che non è una norma, è un meccanismo di soft regulation, però nei paesi che funzionano, cioè nei paesi anglosassoni, noi abbiamo molte poche norme cogenti eppure le cose vanno bene lo stesso, dimostrazione che non bisogna urlare con le grida famose di cui dicevamo prima per avere ragione. A volte anche norme meno urlate possono essere utili. Io credo che questo sia uno di quei settori nei quali bisognerebbe lavorare moltissimo attraverso le linee guida. Noi per esempio ci abbiamo provato con Agenas, con cui abbiamo collaborato il Ministero della Sanità, per esempio nella necessità di prevedere linee guida ad hoc che riguardavano il settore della sanità e i piani di prevenzione della corruzione. Abbiamo previsto anche qualcosa con riferimento specifico a questi ambiti. Io credo che quella sia la strada, cioè provare a creare meccanismi normativi non necessariamente legislativi che vengono dal confronto con gli stakeholder. Noi le linee guida in materia di prevenzione della trasparenza le abbiamo fatte con Agenas e il Ministero, perché chi conosce meglio quali possono essere i problemi se non chi ci opera dentro. Io sono convinto che quella può essere una strada, cioè sempre più una specializzazione attraverso meccanismi di soft regulation. Presidente, le faccio un'ultima domanda, anche perché lei ha un osservatorio ovviamente privilegiato per questo. Con la complicità, mettiamola così, anche dai mezzi di informazione, della stampa, delle televisioni, l'immagine che viene di questo Paese è l'immagine di un Paese fortemente corrotto. È così o è cambiato qualcosa in questi anni? No, prima di tutto io vorrei contestare l'idea dell'immagine e dire che finalmente all'estero abbiamo anche rispetto su questi temi. In questo periodo i nostri rapporti con la Francia non sono fra i migliori e del resto sappiamo tutti che in Francia sono un po' sciovinisti per essere buoni. Ebbene la Francia in materia di autorità di prevenzione della corruzione ha detto che ci copierà. Questo è un piccolo segnale che comunque non è di poco momento perché è evidente che se persino i francesi ci vogliono copiare qualcosa di buono evidentemente c'è. Soprattutto all'estero su questi temi così come è avvenuto nella lotta alla mafia adesso abbiamo rispetto perché per tanti anni per esempio ci hanno preso in giro sulla legislazione antimafia, adesso purtroppo quasi tutti ce la devono copiare. E non credo affatto che sia neanche giustificato il meccanismo dell'Italia come Paese eccessivamente corrotto. Del resto le buone notizie sono anche difficili da veicolare. Per esempio l'Italia negli ultimi tre anni ha migliorato oltre 15 posizioni nella classifica di Transparency International piazzandosi a questo punto a una posizione che certamente non è onorevole ma che non è più il fanalino di coda. Ma la percezione della corruzione per quanto non è la prova della corruzione è un elemento molto significativo perché è il tasso di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. E quella classifica l'Italia l'ha migliorata malgrado se parli tantissimo di corruzione e smettendo anche chi dice che parlare fa male. Non è vero perché parlando comunque abbiamo migliorato di 15 posizioni il nostro ranking internazionale perché chi opera sui mercati internazionali sa benissimo che fra i vari elementi che vengono messi dagli investitori nei propri panieri di valutazione ci sono anche quelle valutazioni e quelle valutazioni finalmente ci vedono piano piano anche uscire dalla zona retrocessione. Oggi siamo nella bassa classifica però eravamo ultimi assoluti diciamo sembravamo il benevento della prima del girone di andata della serie A però poi nel girone di ritorno si è fatto onore e noi speriamo nel girone di ritorno di recuperare ancora di più. Grazie a tutti.